ciao a tutti cari amici miei benvenuti in questo nuovo video come state spero molto bene oggi mega unboxing analogico così festeggiamo anche un po insieme i 2000 iscritti prima di tutto i ringraziamenti sono d'obbligo perché senza di voi questo piccolo traguardo non sarebbe stato possibile so bene che un canale con 2000 iscritti ancora molto piccolo però volta per volta stiamo crescendo insieme quindi grazie 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 voglio premiare la vostra fiducia facendovi vedere in anteprima dei modelli vintage che sicuramente andrò a recensire andrò a fare dei video dedicati a riguardo nei prossimi mesi se dovessi dire qualche imprecisione qualche inesattezza vi chiedo di correggermi qua sotto nei commenti perché non ho ancora analizzato singolarmente nel dettaglio le macchine che andremo a vedere siete carichi andiamo a vedere cominciamo il video con questa bellissima alina a1 questo modello è un po rovinato quindi manca la placchettina che una volta aveva il nome qua sopra ovviamente da rivedere tutta la parte di coperture magari un giorno la sistemeremo e è molto bella è una macchina fotografica che dovrebbe essere stata prodotta in cina tra il 1956 e il 1966 formato 120 mm con doppia lente e viewfinder a pozzetto è veramente molto bella peccato che un po rovinata in realtà con questa sono già andato a fare delle fotografie ma non ho ancora ricevuto gli sviluppi quindi probabilmente una di quelle che vedremo per prime sono andata a dare un'occhiata alla sua storia un pezzo estremamente economico era economico anche quando è uscita quindi potete immaginare però ho visto che molte persone sono riuscite a tirarci fuori delle ottime foto quindi staremo a vedere quella che andiamo a vedere adesso invece che ancora nella propria custodia sembra essere una tra le più performanti delle camera box della zeiss icon andiamo a tirarla fuori guardate quanto è bella macchina fotografica che dovrebbe essere stato prodotto lo specifico modello nel 1956 tra il 1926 e il 1956 ne hanno fatto diversi modelli questo dovrebbe essere proprio l'ultimo ed ha anche un semplicissimo nome accattivante infatti si chiama zeiss icon box tengor 56 2 macchina che dovrebbe avere una singola velocità di scatto ma ci dovrebbero essere tre posizioni diaframma e tre posizioni di fuoco ha il doppio viewfinder per essere usata sia in verticale sia in orizzontale questo aveva già il blocco di sicurezza per l'otturatore per non scattare a caso e aveva la possibilità di fare anche scatto temporizzato il ball quindi lasciare l'otturatore aperto si dovrebbe poter collegare un flash esterno e anche a uno scatto remoto dovrebbe essere compatibile col formato 120 ma credo correggetemi se sbaglio quelli che ne stanno di più di me che una volta ci fosse il formato 6 120 quindi il 120 adattabile ma bisogna solamente rimpicciolire un po il rocchetto perché quello dei 120 di adesso è un po più largo rispetto a quello che montava questa macchina fotografica la prossima è un'altra box camera che si chiama brownie target 6 20 anche questa si apre da così questa c'è scritto sopra veniva caricata con pellicole kodax 120 quelle che dicevo prima per fortuna è provvista del rocchetto originale questo vuol dire che anche in questo caso possiamo prendere a regola la pellicola 120 tagliare un pochino la circonferenza del rocchetto e dovrebbe poter funzionare di nuovo mi sembra una macchina piuttosto semplice qui abbiamo il blocco per tenere l'otturatore aperto insomma per scattare i nostri bulb poi abbiamo la leva che fa partire l'otturatore è completamente in metallo ed è stata prodotta tra il 1946 e il 1952 credo credo da kodak guardate come si sta ampliando il mio esercito di vecchione quella che vi faccio vedere adesso è una macchina fotografica italiana e si chiama bencini coral 2 bencini era un'azienda che produceva fotocamere con sede principale a milano che fu fondata nel 1946 e poi credo che chiuse nel 1980 sto mettendo un po insieme le informazioni perché mi piacerebbe in un futuro fare dei documentari sulle varie case fotografiche fatemi sapere se potrebbe essere di vostro interesse e tra queste c'era anche bencini tra l'altro me l'ha consigliata riccardo del canale youtube niconisti la togliamo dalla sua custodia eccola qui guardate quanto è bella prodotta negli anni 60 con un corpo unico in alluminio presso fuso rotella per far avanzare la pellicola pulsante di scatto e abbiamo anche la slitta per il flash ne hanno fatte molte versioni e a quanto capito la differenza sta un po nel valore del diaframma che in questo caso è 8 e 16 ma ce ne sono alcuni modelli che hanno 4 ore di diaframma altri modelli che hanno valore di 9 e 16 insomma ne hanno fatti davvero parecchi da quanto ho letto ma prendete tutto con le pinze perché non ancora provata la particolarità di questa macchina fotografica era di usare il formato 120 ma di poter imprimere mezzo frame in poche parole lo scatto veniva impresso sulla metà della dimensione disponibile il formato 120 quindi si potevano fare il doppio degli scatti se guardate dietro infatti ci sono due bloc di ispezione del nostro rullino quindi per esempio l'uno arrivava qua si scattava la fotografia l'uno tornava qui si scattava un'altra fotografia dovrebbe essere così però se la sapete diversa fatemelo sapere di solito lo storico di questo canale youtube è un utente che si chiama il mago sono sicuro che non ci deluderà questa me la faccio vedere per un di più perché secondo me è troppo danneggiata non funzionerà è una kodak si chiama instamatic 100 camera è molto carina perché ovviamente a questo super effetto vintage e poi a questo alloggio per il flash che viene fuori dove si alloggiava una lampadina monouso che poi veniva espulsa fatemi sapere se poi vorreste una recensione su questa macchina fotografica perché questa secondo me è inservibile dovremmo reperirne un'altra funzionante che ne pensate c'è un sacco di carne al fuoco ho lasciato per ultima la più vecchia prodotta tra il 1914 e il 1927 e si chiama kodak numero 1 autografic junior ha questo nome autografic perché sulla parte posteriore della macchina fotografica c'era uno sportellino con annesso un pennino metallico che il fotografo poteva usare per apporre sulla pellicola dei piccoli appunti come il soggetto il luogo in cui era stata scattata la foto o la data questa è talmente vecchia è anche un po tenuta male che il pennino ormai praticamente si è ossidato con tutta la struttura quindi riesco a tirarlo fuori ma lo vedremo per il resto mi sembra mal ridotta ma visto il meccanismo molto semplice direi che potrebbe funzionare come si faceva per utilizzarla qua sopra c'è un pulsante nascosto la scritta kodak questa placchetta kodak veniva verso l'esterno e si poteva aprire la macchina guardate che spettacolo poi si prendeva questa clip si tirava le possibili distanze di fuoco sono indicate sul lato e la macchina si impostava spostando fisicamente l'obiettivo che alla fine è solamente questo qua davanti si tirava fisicamente avanti o indietro la clip metallica con cui abbiamo aperto la macchina diventava anche un sostegno per tenerla in orizzontale quando si scatta qui al lato c'è un secondo sostegno per poterla posizionare anche in orizzontale anche il mirino può ruotare in base alla posizione in cui mettiamo la macchina per quanto riguarda le pellicole vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per le altre box camera quindi dovrebbe essere compatibile col formato 120 una volta sistemato il rocchetto allora ragazzi questa è un'anticipazione un po' uno spoiler di quello che vedrete nei prossimi mesi qua sul canale ovviamente ci vorrà un po' di tempo perché dovremmo analizzare ognuna di queste macchine singolarmente quindi dovremmo prendere i rullini inserirli andare a scattare mandarli in sviluppo e vedere i risultati quindi sarà una cosa lunga ma ci terrai a guardarle insieme con voi che cosa ne pensate avete una macchina preferita le avete già provate vi hanno dato di buoni risultati a qualcuno di voi si è sbloccato qualche ricordo fatemelo sapere qua sotto nei commenti se siete arrivati fino a questo punto del video vi do una stretta di mano siete dei grandi voglio ringraziare ancora una volta tutti quelli che seguono il canale e si stanno iscrivendo perché siete voi alla fine che mi date un po' l'energia un po' il gas per produrre questi contenuti cercherò di ricompensarvi facendo uscire dei contenuti sempre più nuovi e se riesco cercherò di pubblicare i vlog di fujifilm quelli che rimangono entro natale almeno uno ci provo ragazzi ci provo ci provo insomma ragazzi anche per oggi abbiamo finito noi ci vediamo tempo permettendo la settimana prossima con un nuovo video sempre qui sul prova cose ciao 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 Grazie a tutti.